Ottavio De Martinis raddoppia, sindaco di Montesilvano, da oggi ufficialmente a questo punto anche presidente della provincia di Pescara. Una grande soddisfazione, ma possiamo dire De Martinis anche un successo quasi annunciato. Una grande soddisfazione, sicuramente tanta responsabilità sulle spalle. È vero che la tornata, il risultato era abbastanza scontato, ma la cosa che fa piacere è che è andato al di sopra delle aspettative. Perché al di là dei nostri voti, quindi dei voti di aria naturale del centro-destra, sono arrivati anche dei voti da parte di altri amministratori, probabilmente quelli del Polo Civico. E questo fa piacere perché hanno rinvenuto in me una persona che li potesse rappresentare. E farò di tutto per dare a loro, ma soprattutto ai cittadini del territorio, le risposte che attendono. La provincia ha come obiettivi principali, in modo particolare quelli legati alla viabilità, ma anche quelli legati alle scuole. Come detto nei giorni scorsi, non mi limiterò ovviamente a questo, ma ci farò anche da quello che intendo fare, anche da collante da tutti i territori, al fine di creare quella sinergia e quella forza che possano dare alla provincia di Pescara quell'attrattività, quella funzionalità e, perché no, quella forza anche da un punto di vista turistico. E da subito dopo le feste natalizie, inizierò un giro in tutti i comuni della provincia, al fine di valutare le esigenze di ogni sindaco, di ogni amministrazione, e di poter tessere una rete che possa essere funzionale e importante nel futuro. La cosa che mi fa piacere è avere una squadra molto, molto competente, fatta di tanti bravi amministratori, tra cui tanti sindaci. Quindi quello che ritengo è che invece la squadra che è stata composta è molto importante, ma anche coloro che non sono entrati, che ho sentito nei giorni scorsi, daranno il loro apporto, benché non in consiglio provinciale. Io intendo essere il presidente di tutti e quindi anche di coloro che hanno contribuito con i loro voti alla mia elezione, soprattutto loro. E quindi sarà un gioco di squadra, un gioco di squadra che penso, ritengo, si debba allargare a tutte le forze, al di là dei colori politici, perché il territorio è di tutti e quindi io penso che il presidente debba fare il bene di tutti e per questo motivo coinvolgerò anche coloro, al di là degli scontenti delle liste, anche coloro che non sono entrati o che fanno parte di altri schieramenti politici.